Ciao amici di Italia Top Games, giovedì mattina e lo sapete benissimo che mostriamo tutti gli aggiornamenti per 2019. Prima però vi ricordo che oggi pomeriggio con il TG Tech di Simpli Radio, in collaborazione con i TG, si vince Deer Trally 2.0 per PlayStation 4. Bellissimo gioco, si vince il codice download, comodissimo a scaricare su PlayStation Store. Non perdete l'occasione, alle 15 pubblichiamo la domanda su italiatopgames.it in anticipo, alle 16 il TG Tech in diretta su Simpli Radio, lo potete sentire in FM in tutto il centro Italia oppure online in streaming ovunque voi siate e quindi non perdete l'occasione. Allora, aggiornamento live, valutazione in condizione dei giocatori in forma. Non c'è Cristiano Ronaldo per un semplice motivo, perché qui vengono presi in considerazione le performance nei campionati nazionali. Se ci doveva essere Cristiano Ronaldo in Champions facevano una categoria a parte, giustamente dopo la tripletta contro l'Atletico Madrid. Comunque, giocatori in forma, Messi, Modric, Suarez, Hazard, Cross, Kane, David Silva, Insigne, che ha segnato nel Sassuolo, ma questa gran performance non l'ho vista, Alessandro della Juve, Falcao, Vardy, Lucas Leva della Lazio, scendiamo, troviamo Ilicic dell'Atalanta e poi abbiamo Zapata dell'Atalanta, 80, Vittor Ruiz, poi scendiamo, scendiamo, Cessoriano del Bologna, vittoria importante in campionato per i bolognesi, Correa della Lazio, Ocampos, scendiamo ancora. Troviamo Dembélé, troviamo Spinazzola, che soprattutto in Champions anche lui ha fatto una gran partita, troviamo Marusic, scendiamo, scendiamo, Cragno del Cagliari, il portiere del Cagliari, Martinez, Susaeta, scendiamo, scendiamo, fino ai 75, come qualcuno mi ha richiesto, ed eccole qui, troviamo tanti, tanti giocatori, Zemayli del Bologna, ecco i vari 75, che sono in forma, ecco qua. Chi scende? Scende Guain, tanto per cambiare, scende Goulam, scende Allan, scende Mertens, tutti i giocatori del Napoli, scende Gomez dell'Atalanta, scende Felipe, scende Kazri, scende Mendy, scende Alcalá, scende Beresnitsky della Sampdoria, spero di averlo letto bene, scende De Maio dell'Udinese, Amalfitano e tanti altri, eccoci qua. Allora, oggi l'aggiornamento si basa soprattutto sul derby Milan-Inter e su nuove leggende milaniste, in questo caso. Eccole qui i giocatori di risalto. Beh, i Cardi, tanto il risalto in questo momento non è. Comunque abbiamo i Cardi, abbiamo i Pichet, abbiamo altri giocatori dell'Inter e del Milan, poi li andiamo a vedere dettagliatamente, e poi qualche altro giocatore di altri campionati, i soliti giocatori Players of the Week. Allora, intanto ci prendiamo i nostri recuperi resistenza. Ecco, in questo periodo purtroppo il tempo per giocare non c'è, quindi scendo sempre in dodicesima posizione. E allora, andiamo subito a vedere sia il pool da collezione che gli agenti speciali. Allora, il pool da collezione, come potete vedere, ci propone tante leggende milaniste di cui alcuni inedite. Qui vediamo Abbiati, Baresi, Massaro e Dida. Qualcuno ha contestato alcune scelte di Konami. Comunque, questo è quanto. 450 giocatori, 45 palle nere, 135 d'oro e tutto il resto argento. Eccolo lì, Cristiano Ronaldo, 94, che per fortuna mia ho in squadra. Poi, ecco, tristi di leggende milaniste, Baresi, Maldini e Gullit. Altra leggenda, non milanista, Batistuta, Chiellini, Aubameyang, Di Bala, Totti. Altra leggenda, Zanetta, Uzzilda, Clascosta, Koulibaly, Icardi, Insegne, Tiago, Del Piero, leggenda. Andanovic, Bonucci, Amsic, Manolas, Mertens, Zeko, Pjanic, Lacazette, Müller, Immobile, Alaba, Bernardo Silva, Fekir, Pickford, Alexandro. Ed ecco altre due leggende, Dida e Nakata. Mirandas, Piliqueta, Nainggolan, vediamo se c'è qualche altra leggenda. Ma mi sembra di averle viste tutte, forse Dida, non abbiamo visto un piccolo vuoto di memoria immediata. E qui, ecco, sono tutti gli altri giocatori. Eccoli qui, Massaro, 81, Abbiate, 80, altre due leggende. E forse Dida l'abbiamo visto prima, perché non penso che l'abbiano fatto addirittura più basso di 78. E questo è il pull, quindi ripeto, 45 palle nere, 135 d'oro, 270 d'argento. E poi ci sono i giocatori della settimana, il Club Selection Milan e il Club Selection Inter. Allora, Players of the Week, quasi tutti neri, però c'è anche un argento. Ed eccole qui, Pichet, colpo di testa 93, abilità difensiva 93, recupero palla 92. Molto interessante. Uno dei pochi giocatori che avrei voluto nella mia squadra quest'anno e che non ho avuto. Ben Yedder, abilità offensiva 90, finalizzazione 92. Sterling, che già fa paura, qui fa ancora di più paura, perché velocità 95, potenza di rompere 97, controllo del corpo 95. Che Guava aumenta soprattutto in controllo di palla, Xhaka, speriamo che si legga così, scusate l'ignoranza. Potenza di tiro 95, portiere Costilla aumenta, eccole qui, nella parte portiera arriva addirittura 90. Terzino destro, Dunfraes, Dunfraes, scusate sempre l'ignoranza. E dribbling 77, velocità 90. Zichia, altro giocatore a me sconosciuto, colpo di testa 85, abilità difensiva 82. Tadic, questo si conosce, ottimo giocatore dell'Ajax. Aumenta un po' dappertutto, ma non eccelle. Vlap, centrocampista, aumenta un po'. Ekin, forse almeno la palla d'oro 80, glielo potevano dare. Comunque aumenta una barità offensiva 81, controllo palla 81, dribbling 80, finalizzazione 81. Andiamo a vedere i giocatori del Milan. Tutte palle nere, 100%. E qui abbiamo Bonaventura, controllo palla 91, passaggio rossoterra 91, potenze di tiro 85, niente male. Romagnoli, ottimo, anche lui vorrei tanto in squadra, recupero la palla, addirittura arriva a 96, contatto fisico 90. Suso è da 89, controllo palla 96, dribbling 95. Donna Rumma, wow, portiere 94, presa 96, respinta 92, riflessi 99. Su questo il pistolero c'è poco da dire, 87, forse in if è poco, comunque vedrete l'anno prossimo Piontech aumenterà ancora parecchio. Abilità offensiva 91, controllo palla 80, finalizzazione 92. Rodriguez, passaggio alto 89, calci piazzati 85, effetto 86, che si aumenta un po' dappertutto. E c'è pure Cutrone, che aumenta fino a 90 la finalizzazione. Andiamo a vedere l'internazionale, Icardi c'è, ma nel derby non si sa, non ho letto le indiscrezioni di questa mattina. Comunque, punta 92, abilità offensiva 97, finalizzazione 96, elevazione 93. Andanovic, che già ho in versione if di un'altra settimana, portiere 98, respinta 98, riflessi 98, copertore 96. Io alla fine l'ho scelto come titolare anche sopra Ter Stegen. Skriniar, arriva a 90, abilità offensiva arriva a 97. Brozovic, aumenta un po' dappertutto, arriva a 89. Samoa 88, soprattutto in velocità aumenta di 7 punti. Perisic, che già ho anche lui, in versione if, dribbling 90, velocità 91. De Vrij, arriva a 88, soprattutto l'abilità difensiva sale a 95. Politano, che nelle ultime settimane sta facendo bene, ma tutto il campionato sta facendo davvero bene. Ottimo acquisto per l'Inter, potenza dirompente 94. Dribbling 90. Bene, questi sono i giocatori della settimana. Il derby, come al solito, anche perché Konami ha la partnership con entrambe le squadre milanesi, viene sempre messo in risalto. Finiamo con il vedere le coppe Challenge. Allora, c'è quella online. Winstreet Challenge. Allora, uno contro uno, dobbiamo battere tre giocatori al contempo. Però abbiamo come premio l'agente pool da collezione per due. Quindi è interessante il premio, diciamo. Questo è interessante. Iniziere tre partite non è per tutti, me compreso in particolare. Lo dico sempre, ma lo confermo soltanto. Allora, vediamo le controcom, che sono più semplici. Allora, no, non partecipiamo, la vediamo soltanto. Abbiamo battuto l'Inter e Milan, l'ordine non lo so. E qui invece c'è lo scassissimo agente speciale di giocatori di livello 1, Silver 1. Per me è un premio davvero inutile, diciamocelo. Invece questa è la versus Italian Clubs. La prima e come al solito dovrebbero essercene due o tre. Adesso non ricordo, ho pubblicato tutto. Comunque, preparatore di abilità per 14. Se avete bisogno di abilità, decisamente fa per voi. E poi dopo, ripeto, ci dovrebbe essere un'altra challenge controcom, sempre contro gli Italian Clubs. O un'altra, o un'altra ancora. Tre in tutto. Bene, dai. Aggiornamento da 6,5. Secondo me niente di speciale, niente di nuovo. Però ci sono anche le nuove leggende. Niente di nuovo sì, niente di inedito, diciamo, per così dire. Quindi gli diamo un 6,5 a questo aggiornamento. Bene, aspetto i vostri voti, aspetto i vostri commenti. Vi aspetto oggi pomeriggio per farvi vincere Dirt Rally 2.0 per PlayStation 4. Io vi ringrazio come al solito per l'attenzione. E sto leggendo proprio adesso che saranno tre le sfide. Scusatemi, ma cerco di fare sempre video rapidissimi per mostrarvi il prima possibile. Poi YouTube ci mette un pochino a uppare ed elaborare il video. Grazie ancora per l'attenzione. Alla prossima settimana. E invece a prestissimo con il TG Tech e con gli altri aggiornamenti Italia Top Games. Ciao!